Salve, buongiorno a tutti, grazie di essere qui prima di tutto. I nostri relatori, quelli che non vedete ancora ci stanno raggiungendo, io direi di iniziare. Grazie di essere venuti a questa presentazione del rapporto sulla legislazione 2013 dove auspichiamo si possa dibattere sia di qualità della legislazione ma soprattutto anche di andare verso un nuovo rapporto creando anche le linee di indirizzo per il prossimo rapporto che ci apprestiamo anche come Camera a distruire. Su questo devo ringraziare l'ottimo lavoro di tutta l'amministrazione della Camera. La presentazione del rapporto sulla legislazione costituisce un'occasione preziosa per una riflessione ad ampio raggio sulle attuali tendenze dei processi normativi. Ad ampio raggio perché il rapporto consente una ricognizione non solo delle caratteristiche assunte dalla legislazione statale ma anche di quelle predominanti a livello regionale nonché a livello di Unione Europea e dei principali Stati membri dell'Unione. La presentazione del rapporto 2013 che avrebbe dovuto svolgersi a Cagliari sul finire dello scorso anno e che abbiamo dovuto rinviare a causa degli eventi alluvionali che hanno interessato la Sardegna cade in una fase molto delicata della vita politico parlamentare ed è quindi un'occasione importante per valutare su una base dati oggettiva la discussione intorno alle prospettive di riforma istituzionale e regolamentare. Consentitevi di iniziare le mie brevi riflessioni proprio dallo sguardo comparato che il rapporto offre alla nostra riflessione. Mi sembra che un po' ovunque in Europa emerga un crescente bisogno di rappresentanza che non può che trovare espressione in un potenziamento del ruolo del Parlamento. Si può a tale proposito ricordare la riforma costituzionale francese del 2008 che ha potenziato rispetto al tradizionale assetto della Quinta Repubblica le funzioni del Parlamento. Anche in Gran Bretagna per far fronte all'inedito risultato elettorale del 2009 l'accordo di coalizione tra conservatori e liberal democratici ha ridisegnato anche attraverso l'approvazione di un'apposita legge i rapporti tra Gabinetto e Camera dei Comuni. E soprattutto in Germania le sentenze del Tribunale Costituzionale del 2011 e del 2012 hanno conferito al Bundestag e alla sua Commissione Bilancio un inedito ruolo di scrutinio preventivo sulle decisioni del Governo tedesco nell'ambito dell'Unione Europea, in particolare con riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo Transitorio Salva Stati e del meccanismo europeo di stabilità. Molti osservatori hanno rilevato negli ultimi anni una crisi profonda delle democrazie occidentali, anche alla luce dei fatti sopra richiamati. A me pare più corretto evidenziare che ad andare in crisi di fronte alla complessità delle sfide contemporanee è piuttosto un modello di democrazia, quello eccessivamente fondato sulla delega al leader direttamente o indirettamente legittimati dal voto popolare. Il fatto è che anche a fronte dell'evoluzione delle nostre società, la deliberazione delle aule parlamentari si mantiene come la sede più idonea che in nessun modo può essere sostituita dal livello governativo, per assolvere a tre funzioni. La rappresentanza dei diversi interessi, il confronto tra le diverse opzioni, la trasparenza e la legittimità della decisione. Occorre anche sfatare il mito che ad una maggiore trasparenza della decisione corrisponda una sua lentezza o inefficacia. Spesso la trasparenza è di per sé garanzia di efficienza, come mostra a contrario la scarsa qualità dei testi degli atti normativi governativi. Eppure, nonostante le molte ragioni che spingono ad un potenziamento del Parlamento, la sofferenza dell'attività legislativa appare evidente. Credo che a questo risultato concorrano due fattori. Il perdurante abuso della decretazione d'urgenza da parte del Governo è l'evoluzione del processo normativo dell'Unione europea. Con riferimento al primo aspetto, nelle ultime legislature si è infatti affermato un circuito perverso decreto-legge-fiducia, che oltre a limitare le possibilità di intervento del Parlamento, costringe questi margini di intervento in una cornice confusa, anche quando la fiducia è posta sui testi licenziati dalle Commissioni. I decreti-legge sono risultati in molte occasioni di estrema eterogenità e di dubbia funzione normativa. Sembra, infatti, in molti casi che la necessità del provvedere risieda per il Governo in un effetto annuncio affidato a norme manifeste, la cui concreta attuazione è rimandata a provvedimenti di natura secondaria, regolamenti o decreti ministeriali, spesso emanati con grave ritardo o non emanati affatto. Appare evidente allora che o non vi era l'urgenza effettiva del provvedere o la norma era di contenuto talmente vago da renderne ardua, oppure arbitraria, la trasposizione in concrete misure di carattere secondario. Da questi elementi di indubbia ed elevata criticità discendono gli ultimi accadimenti, a tutti ben noti, che quindi richiamo per titoli. Dalla rinuncia alla conversione del decreto-legge numero 126-2013, alla lettera del Presidente della Repubblica e Presidente delle Camere, dal ricorso alla ghigliottina sul decreto-legge numero 146-2013, per la prima volta alla Camera, alla lettera della Presidente Boldrini al Presidente del Consiglio. Finalmente, la Corte Costituzionale, nella recentissima sentenza del 12 febbraio scorso, ha sanzionato l'ilegittimità di alcune norme, modifiche al testo unico sulle sostanze stupefacenti, inserite nell'iter di conversione di un decreto-legge per la loro disomogeneità rispetto all'oggetto originario del provvedimento. L'oggetto originario erano le Olimpiadi invernali di Torino. Leggeremo con attenzione le motivazioni, quando ci saranno, ma si tratta di una decisione importantissima e rivoluzionaria. Permettetemi di dire, come al solito, dove non arriva la politica, poi sono costretti ad arrivare i giudici. Il mio auspicio è che possa segnare un punto di svolta. Vorrei, infatti, a questo proposito, evidenziare invece che cosa sta succedendo in questi giorni, portarlo anche qui in Parlamento, portarlo anche come esempio in qualche modo virtuoso. C'è un governo di missionario e un altro che si sta formando e si sta verificando una collaborazione, a mio parere, tra maggioranza e opposizione nell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, soprattutto qui alla Camera, dove sappiamo bene, c'è un ostruzionismo molto forte, nel senso che il regolamento lo permette, che quindi potrebbe addirittura far decadere gli attuali decreti emanati dal governo Letta e che non possono essere fiduciati dal governo Letta perché è un governo di missionario e non c'è il nuovo governo. In questa fase il risultato invece non è stato, il prodotto di questa fase non è stato l'ostruzionismo, il prodotto di questa fase è stato un concreto miglioramento dei provvedimenti attraverso l'apporto delle opposizioni e questo avviene perché è difficilmente immaginabile che un esecutivo di missionario ponga la questione di fiducia e quindi il risultato è stato, come vi dicevo, un concreto miglioramento dei provvedimenti che noi tutti, maggioranza e opposizione, credo che dovremmo guardare con grande interesse per poterla ripetere come dinamica. Penso ad esempio al recente caso dell'iter di conversione del decreto legge cosiddetto mille proroghe, che è in sostanza un decreto omnibus per antonomasia e in occasione del quale su 20 proposte di modifica avanzate dall'opposizione, nello specifico porto l'esempio del mio gruppo parlamentare, ben 13 sono state accolte e questo probabilmente con un voto di fiducia sarebbe stata troncata come trattativa, quindi questo tenevo a precisarlo proprio come momento che sta vivendo il Parlamento in questa fase, probabilmente di maggiore autonomia rispetto a quelle che sono le dinamiche governative. Simmetricamente a quanto avviene a livello statale le procedure prevalenti nell'Unione Europea appaiono sacrificare in molte occasioni la trasparenza. Il Parlamento Europeo ha ottenuto con il Trattato di Lisbona un ampliamento generalizzato della sua partecipazione all'adozione degli atti nomativi. A fronte di questo si è però diffusa la prassi dell'approvazione in prima lettura dei provvedimenti preceduta da un lungo lavoro informale privo di garanzie di trasparenza, svolto nei cosiddetti triloghi che riuniscono rappresentanti della Commissione Europea, del Consiglio e del Parlamento Europeo. Appare quindi necessario, e questa è un'indicazione che proviene dal rapporto, promuovere un processo riformatore intorno a due elementi principali, una maggiore capacità di programmazione delle decisioni legislative nazionali ed una maggiore capacità dell'istituzione parlamentare di dare voce ai cittadini. Con riferimento al primo aspetto, il Parlamento dovrebbe concordare con il Governo una programmazione dei lavori che consenza di affrontare per sessioni le diverse politiche pubbliche. Questo potrebbe avvenire in collegamento con i dossier che sono sul tavolo delle istituzioni dell'Unione Europea. In questo modo il Parlamento potrebbe essere associato all'istruttoria che il Governo deve preparare su tali dossier, contribuendo con quel plus di trasparenza e legittimazione democratica delle decisioni che una compiuta istruttoria parlamentare, disposta anche all'ascolto dei cittadini, garantisce rispetto a quella che si svolge nello stretto ambito governativo. Occorre, a mio avviso, intrecciare il tema della programmazione legislativa con quello di dare più voce ai cittadini. L'istruttoria legislativa nelle commissioni parlamentari dovrebbe essere riarticolata a partire dalle diverse politiche pubbliche, onde valutare la reale necessità di interventi normativi nei vari settori. A tal fine la valutazione dei fabbisogni normativi potrebbe essere compiuta anche attraverso consultazioni pubbliche che utilizzino le moderne tecnologie informatiche. Si tratta insomma di trovare nuove modalità per convogliare le istanze della società nelle aule parlamentari, ora che sembra essersi esaurita quella funzione di trasmissione che era garantita dai partiti di massa. In questo quadro potrebbe essere ripensato e potenziato anche tutto il meccanismo delle proposte di legge di iniziativa popolare, comprendo i timori che progetti di riforma ambiziosi possono suscitare, soprattutto con riferimento all'individuazione di nuove forme di coinvolgimento dei cittadini nel processo parlamentare. Comprendo che si possa nutrire il dubbio di un inserimento di elementi spuri nel circuito rappresentativo, volte ad un superamento tucur di tale circuito. Si tratta però dell'esatto contrario, a mio parere, della volontà di individuare modalità efficaci per far convergere dentro le aule parlamentari le domande emergenti dalla società, al fine di evitare che queste trovino scorciatoie, queste sì pericolose, fuori da queste aule. In aggiunta a questo, volevo semplicemente proporre quella che è la nostra nota di sintesi che noi abbiamo preparato per questi lavori e che può permetterci di tenere il filo anche nel dibattito che apriremo dopo, nel tavolo che apriremo dopo. La nota di sintesi propone qualche ipotesi per superare la crescente frammentarietà della legislazione ed il crescente corso a norme annuncio, la cui attuazione è rinviata a norme di rango secondario, frequentemente emanate con grave ritardo. Credo che la situazione nelle regioni differisca di poco e debba fare i conti anche con relazioni non sempre chiare tra atti legislativi e atti programmatori. La nota di sintesi prospetta l'ipotesi della sperimentazione di un'adeguata fase di programmazione e progettazione legislativa concordata tra Governo e Parlamento, analogamente a quanto avviene a livello europeo, dove il programma legislativo è il frutto dell'accordo tra le istituzioni comunitarie e viene sottoposto ai singoli Stati. La programmazione legislativa nazionale potrebbe cioè essere oggetto di una qualche forma di intesa non solo tra Governo e Parlamento, ma anche tra Stato e Regioni, dando a queste ultime l'opportunità di intervenire a monte del processo. La riforma costituzionale del titolo V potrà poi ridefinire gli interventi a valle. Inoltre la programmazione da un lato e la progettazione dei singoli interventi legislativi dall'altro potrebbero prevedere una fase nella quale favorire il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse attraverso consultazioni pubbliche e trasparenti. Chiedo perciò poi ai nostri ospiti, qualora lo ritengano, di potersi esprimere su questi temi anche nella prospettiva della costruzione del prossimo rapporto della legislazione. Io vi ringrazio e adesso passo la parola al Presidente Salvatore Scicu, Presidente del Comitato per la Legislazione. Grazie.